Dopo l'ultimo giorno di riposo, il Giro d'Italia torna con la sedicesima tappa, partenza da Bressanone per 132 km con due gran premi della montagna di seconda categoria prima dell'arrivo in salita ad Andalo. La classifica non offre alternative a chi insegue la maglia rosa di Stephen Kruiswick e sono proprio Alejandro Valverde e Vincenzo Nibali ad affondare i colpi all'inizio della corsa. Già ai piedi della prima ascesa la velocità è altissima. Sul passo della Mendola restano 10 corridori, cioè il meglio del giro, da Nibali a Valverde, da Kruiswick a Zakarin, da Firsanov a Jungels. Ma il bello deve ancora arrivare. La scalata della Paganella è lunga 10,2 km e i migliori sono tutti raggruppati in testa alla corsa. Kangert, sganciato dalla stana come punto d'appoggio per Nibali, si fa da parte. Ulissi, che sarà quarto all'arrivo, resta davanti a fare l'andatura. Ci mette del suo anche Valverde a 16 km dal traguardo con un'accelerata che non fa troppo male a Kruiswick. L'olandese infatti tiene il passo, sta a ruota, dà solo l'illusione di concedere qualche metro, poi decide di passare dalla difesa all'attacco, colpendo Nibali nella parte peggiore, l'orgoglio, quello che spesso spinge lo squalo a superare i suoi limiti e le sue fatiche. Vincenzo non riesce a reagire e anche Chaves, a quasi un chilometro dalla vetta, lo manda in tilt. Il successo ad Andalo è una questione riservata a tre uomini perché Chaves è troppo lontano, Nibali è ancora più indietro, colui resta soltanto Pozzo Vivo che non collabora a Granché. L'inseguimento diventa dunque impossibile per la terza tappa di fila il siciliano Masticamaro. Lo sprint è una questione per due, Valverde ha lo spunto migliore e conquista su Kruiswick la prima vittoria al Giro d'Italia in 16 anni di carriera da professionista. Il Mursiano è ora terzo nella generale a 3 minuti e 23 da Kruiswick che a sua volta guadagna 42 secondi su Chaves, ora secondo e addirittura 1,47 su Nibali, undicesimo al traguardo e a 4 minuti e 43 secondi dal primato in classifica generale. Il giro prosegue con la diciassettesima tappa da Molveno a Cassano Dada, pane per i denti di chi ha ancora le energie per cercare la fuga oppure per chi vuole giocarsi un arrivo in volata.